Un incontro festoso, quello tra il Papa e partecipanti al congresso del Forum Internazionale dell'Azione Cattolica nell'Aula del Sinodo, è segnato da un momento toccante la consegna a Francesco del Vangelo lasciato su un barcone da un migrante che ha perso la vita nel viaggio verso Lampedusa. Nel suo discorso di spagnolo, con ampie aggiunte a braccio, il Papa ha chiesto alla C di formare, pregare e sacrificarsi per offrirsi agli altri. Ribadendo che il carisma del movimento è di essere in missione ed esortando ad essere sempre inserita nella parrocchia, il Papa è invitato a ripensare continuamente le forme di apostolato più adatte alle realtà che si vive senza cadere nella tentazione perfezionista dell'eterna preparazione e dell'eterna analisi. Bisogna andare come Gesù e come fecero i discepoli, incontrando l'altro e tenendo conto del contributo che gli anziani e gli ammalati possono dare pregando e contemplando Dio. Mostrare e incarnare ciò che si è, essere credibile e presenti in ogni luogo, anche in politica o nel mondo imprenditoriale senza però credersi cristiani perfetti, ma farlo per servire meglio. Non siate dogane, è stato l'invito del pontefice, né restrittivi, né più papisti del Papa, ma misericordiosi, aprendo a chi si sente cristiano di secondo ordine, famiglie in cui i genitori non si sono sposati in chiesa, uomini e donne con un passato o un presente difficile ma che lottano, giovani, disorientati e feriti. È una sfida, ha rimarcato Francesco, alla maternità ecclesiale dell'azione cattolica, essere audaci dunque ma senza clericalizzare il laicato, facendo invece attenzione al tema vocazionale, fedele alla missione, con un orecchio rivolto al popolo e l'altro a Dio.